bravissimo leo dopo ti dovrei far vedere il video di quelle mattine lì all'oratorio quando c'era Alessio come mettevi giù il piede adesso invece va molto meglio bravo bravissimo si vola va bene va bene che con la mano quando è lunga cerca di andarci con due ma va bene facciamo pausa va bene è larghissima stava toccata è larghissima non ho visto come sei andato giù perché guardavo la palla che va troppo lontana quando vuoi bravo bravo bravissimo leo questa non lo so se prendi fiato prendi fiato non c'è bisogno che fai tutte di fila io posso anche mettere in pausa per un secondo